Ciao io sono Marco e oggi andiamo a parlare brevemente del OnePlus 6 già perché ieri abbiamo fatto un focus fotografico su questo OnePlus 6 per chi ancora non l'ha visto beh, corresse subito a farlo e quindi oggi ci concentriamo su tanti piccoli aspetti di questo OnePlus 6 perché secondo me è molto valido anche adesso che uscirà il 6T già perché il 6T esce a giorni ma ci saranno davvero pochi cambiamenti cambiamenti già perché secondo me non saranno effettive migliorie il cambiamento principale per esempio sarà il fingerprint che non sarà più sul retro ma sarà davanti e proprio per questo il motto unlock the speed è un cambiamento ma non è per forza una miglioria perché tanti continuano a preferire il fingerprint dietro quello davanti è una tecnologia che ancora non è stata affinata e non sarà una cosa super nuova perché alla fine è la stessa che abbiamo visto sugli Oppo avremo un notch più piccolo che è sicuramente meno invadente però già questo del 6 non è proprio così fastidioso abbiamo tutto quello che ci serve da vedere le notifiche, la percentuale della batteria, l'orario, il wifi, le due schede sim, la sveglia insomma abbiamo tutto quello che ci serve a disposizione prestazionalmente non cambierà perché non è stato rilasciato l'855 lato fotocamera non credo che verrà migliorato al massimo avremo un'integrazione software di intelligenza artificiale quelle cose lì che poi però vengono portate anche sulla generazione precedente il display credo che rimarrà lo stesso AMOLED insomma ed è un display che allora secondo me è un ottimo AMOLED ma non è il miglior AMOLED che ci sia in giro però ha dei settaggi super super malleabili davvero è forse il telefono che ha più modalità di display per così dire allora uno la gestione dei colori perché potete calibrare il display davvero come volete ma poi c'è anche la modalità notturna che è comodissima non è per nulla fastidiosa e adesso c'è anche la modalità lettura cosa fa la modalità lettura? niente di più facile di fare lo schermo in bianco e nero una stupidaggine che però in tanti aspetti può essere comodo come di notte come nella lettura di qualche cosa dove non volete stancare la vista vuol dire avere proprio un display in bianco e nero insomma una soluzione che io ho trovato comodo in varie situazioni ok avremo una batteria che verrà migliorata ma a che prezzo? perdiamo il jack e ok posso anche ormai capirla questa mossa l'hanno fatta in tanti ma non da OnePlus non da chi ha sfottuto Apple per anni e tutti quelli che copiavano Apple e poi anche dei live il jack e davvero è un po' imbarazzante come cosa però va bene e poi c'è il discorso prezzo questo OnePlus 6 attualmente ok questa è la versione cinese che però non riferisce nulla dalla versione normale si inizia a trovare ok non garanzia ufficiale ma a un prezzo di 370 euro che è davvero imbarazzante per quello che fa questo telefono ed è proprio per questo motivo del nuovo prezzo che c'è stato tutto questo fermento questi giorni attorno al OnePlus 6 a 370 euro infatti già ve lo dico è un telefono che non si può non consigliare non c'è paragone con il Mi 8 e quei telefoni lì già per un fattore estetico perché già il vetro posteriore è di una qualità diversa rispetto al Mi 8 questo è tipo un dual layer è un doppio strato è molto resistente non si graffia per nulla il Mi 8 lo attendo soltanto in tasca e va ai micrograffi questo invece ha parecchi mesi alle spalle avrà tipo 4 mesi alle spalle ed è come nuovo come nuovo ok trattiene un po' di di date il fatto che trattenga le di date è che non sia super olofobico però ha anche una cosa positiva ovvero non scivola quindi si riesce a tenere abbastanza bene vabbè non vi aspettate che vi metto ad elencare tutte le caratteristiche estetiche e così via tanto ormai già lo conosce da memoria di recensori ce ne stanno a bizzeffe concentriamoci su alcuni aspetti fondamentali che magari sono stati migliorati e così via per esempio gli aggiornamenti questo OnePlus 6 è in versione global stabile io avevo la cinese beta prima e avevo Android Pie davvero parecchi mesi non so più parlare adesso però ho messo la global stabile perché è stata già aggiornata una volta Android Pie ma ieri l'altro ieri ha ricevuto di nuovo un altro aggiornamento che ha portato anche una piccola grafica un po' rivista che già sulla beta si era vista da parecchi mesi anche sul 5T infatti per esempio troviamo un'applicazione della camera leggermente rinnovata qualche menu leggermente rivisto insomma una miglioria grafica che ci sta è stato rivisto il multitasking con Android Pie può piacere può non piacere però a me la disposizione a schede esteticamente mi aggrada con Android Pie è ancora più fulmine ragazzi questo telefono davvero non ha ritardi non ha lag non ha nulla io ho ottenuto le animazioni attive perché secondo me non ha senso disattivarle perdi tantissima grafica alla fine mi piace anche vedere la grafica e le animazioni quindi non le disattivo quasi mai però davvero questo telefono è un fulmine non ha mai un lag i giochi sono una goduria non esistono gaming phone su Android ragazzi tutti i telefoni che montano 845 memoria UFS e RAM DDR4 sono tra virgolette smartphone da gaming una piccola differenza che può avere un telefono così rispetto magari a un Pocophone o un Asus ROG è che lui non ha un raffreddamento con qualche soluzione tipo heat pipe e robe del genere davvero efficace e quindi quando giocate parecchio un po' come il Mix 2S la batteria inizia a drenare abbastanza anche perché i giochi girano al massimo al massimo del dettaglio l'Inish 2 è una goduria su questo telefono però ovviamente c'è anche l'altro addo della medaglia che i giochi consumicchiano anche abbastanza ho provato Fortnite perché Fortnite ormai è la moda anche su Android gira benone ma la batteria ragazzi cola che è un piacere detto questo il notch verrà ristretto e conterrà praticamente solo la fotocamera e sopra lo speaker quindi probabilmente non avremo ancora uno sblocco con il volto con gli infrarossi quindi probabilmente non avremo ancora uno sblocco con gli infrarossi però devo dirvi la verità lo sblocco col volto del OnePlus 6 è già super efficace è vero di sera fa leggermente più fatica e sfrutta l'illuminazione dello schermo per sbloccare il telefono però alla fine non è un grande problema si usa comunque quindi non vedo un grande problema nella mancanza degli infrarossi una cosa che a me fa impazzire dei OnePlus è che voi se andate nelle impostazioni sviluppatore potete davvero smanettare con parecchie cose in più come per esempio la versione del Bluetooth la versione del Bluetooth il codec Bluetooth potete mettere gli aptX normali aptX HD potete forzare l'LDAC potete mettere in predefinito insomma ci sono tante cosine che sono davvero comode per chi ama smanettare e già che stiamo nel discorso di Bluetooth codec audio e proprio dell'audio parliamo anche dello speaker e dell'audio di questo OnePlus 6 perché comunque è un audio che in riproduzione di multimediali sfrutta soltanto lo speaker qui in basso quindi quando andate a tappare lo speaker magari qui in landscape è un po' un casino perché l'audio è praticamente muto si sente davvero poco molto poco ed è un peccato perché comunque questo OnePlus integra delle tecnologie Dirac Dirac con le quali voi potete smanettare praticamente zero perché il power sound praticamente va soltanto a dare delle piccole migliorie al piccolo speaker che cerca di fare qualcosa in più e infatti rispetto al Mix 2S sui medi avete un piccolo boost in più però i bassi e gli alti comunque rimangono deficitari non sono ancora al top e anche l'HD sound non è che poi potete smanettare più di tanto almeno avete il sintonizzatore audio che quando voi andate ad inserire un jack potete mettere dei profili predefiniti più che altro per le cuffiette OnePlus anche per quelle generiche potete un po' smanettare però comunque non è nulla più che un equalizzatore un piccolo boost anche perché non ci sono DAC esterni è solo un fattore software tutte queste tecnologie qui quindi l'audio alla fine fa fede il DAC di Qualcomm il codex di Qualcomm che è il WCD9341 che alla fine è lo stesso che troviamo anche sul Galaxy S9 e le variante Snapdragon quindi è un audio che è buono, discreto, migliore in cuffia però non è fantastico non è ai livelli del vivo Next Ciao! Lato ricezione mi ha davvero colpito questo OnePlus perché non ho avuto mai alcun problema di ricezione Due SIM all'interno, 4G pulitissimo, VoLTE, il Wi-Fi funziona più che benone Abbiamo l'NFC che comunque è sicuramente una cosa gradevole adesso che è uscito Google Pay E tra l'altro nelle preferenze di connessione abbiamo proprio Touch & Pay con Google Play Services Possiamo configurare già da qui Google Pay Quindi questo è un telefono che supporta la grande Google Pay Lato fotocamera c'è già quel super approfondimento che abbiamo già fatto Quindi non perdiamo tantissimo altro tempo ragazzi Questo è un telefono che va benone, è davvero un ottimo telefono Non ha alcuna pecca, non ha alcuna mancanza Non è il miglior telefono del mondo, è vero Però forse è il migliore qualità prezzo Soprattutto se preso ad un prezzo del genere, 370€ Fa tutto quello che deve fare La batteria forse poteva avere 100-200 mAh di autonomia Per quello c'è il 6T Se cercate qualcosina più di autonomia sicuramente il 6T è la scelta azzeccata Quindi se siete incerti se comprarlo, sì secondo me compratelo Se avete il dubbio di prendere un Mix 2S o un Mi 8 o il OnePlus 6 È un discorso complicato Rispetto al Mi 8 io andrei tutta la vita di OnePlus 6 Per tanti discorsi, se poi magari qualcuno vuole approfondire Ne parliamo qua sotto nei commenti Il Mix 2S estaticamente rimane sempre unico Però alla fine se andiamo a vedere l'atto concreto A parte l'ecosistema Xiaomi Non c'è tanto di preferibile rispetto a questo OnePlus 6 Addirittura il reparto camera secondo me è meglio sul OnePlus 6 Gli aggiornamenti arrivano molto prima, almeno bug Insomma davvero un bel telefono, bravi OnePlus Hanno fatto davvero un ottimo telefono quest'anno Fatemi sapere voi cosa pensate di questo OnePlus 6 Se avete qualche altra domanda, qualcosa del genere Lasciatela qua sotto nei commenti Questa ovviamente non era una recensione Era una piccola chiacchierata su questo OnePlus 6 E niente ragazzi noi ci vediamo prossimamente Ciao ciao Ciao